Salve, sono Luciano Moggi. Volevo farvi le mie congratulazioni per i dieci anni di Cool Club, senza nessuna intercettazione, a differenza di me che in quindici anni ne hanno fatte tante, anche perché quella Juve quest'anno sta andando bene. Tanti auguri nuovamente Cool Club e cancellate questa registrazione. Grazie. Grazie.